Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vorrei cimentarmi in questo video messaggio per innanzitutto farvi vedere, per farvi sapere che un po' non mancate, per incoraggiarvi a continuare a rispettare le regole che ci vengono impartite e soprattutto per farvi un incoraggiamento perché è un momento molto difficile, soprattutto per voi ragazzi, per voi adolescenti che avete in questo periodo della vostra vita molto bisogno dell'amicizia e non poter avere contatti con i vostri amici capisco molto bene che sia veramente molto difficile, però non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo continuare a resistere e a cercare di fare di questo periodo un periodo di riflessione e anche per quanto possibile di normalità vi anticipo che probabilmente la prossima settimana vi chiedo scusa ma ho qualche difficoltà con i video ma sto cercando di preparare delle video lezioni per continuare un pochino il programma che per forza è stato interrotto vi voglio ancora ringraziare per i compiti che mi avete mandato li sto correggendo, molti li ho già corretti e soprattutto sono fiera di voi perché continuate a lavorare con impegno e questo vi fa molto onore per adesso vi saluto, vi mando un grande abbraccio ovviamente solo virtuale con la speranza di vederci al più presto o in video o forse meglio ancora dal vivo ciao